Giulia verrà ricordata come la figlia di tutti. Io ho rinunciato un po' della mia vita privata perché mi ero reso conto che Giulia era diventata un simbolo e se proprio vogliamo cambiare la società dobbiamo anche accettare questo, far sì che Giulia diventi un simbolo, quindi sia un po' meno mia ma un po' simbolo di una battaglia. Spero che non venga ricordata solo per l'evento in sé ma come simbolo poi di una battaglia verso la violenza di genere. E questo rumore di fondo riuscirà di nuovo a smuovere le cose? Quello è l'inizio, dobbiamo iniziare col rumore, poi bisogna fare qualcosa attivamente, va bene le panchine rosse va bene le scarpe rosse, però poi bisogna muoversi attivamente perché non è la panchina che fa la differenza quello ci deve ricordare come ricordare al mattino, adesso cosa devo fare? Devi portare avanti quella battaglia.